Buonasera a tutti, spero che mi possiate sentire, sono Giuseppe Vergesio del Comitato Torino Finanza, qui con me c'è Luca Svisio, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti, e Vittorio Favetti. Oggi parliamo di finanza sostenibile, di Green Bond, il momento in che viviamo evidentemente ha portato, ma da sempre, la giusta rilevanza dell'energia rinnovabile, della finanza sostenibile, e come abbiamo verificato dalle testimonianze che poi vi diranno direttamente, a fronte di questa sensibilità verso il Green, verso la rinnovabile, verso la soluzione che non è più legata al combustibile fossile, ma all'economia circolare, c'è una grande disponibilità di capitali, proprio perché si crea una connessione tra quello che è veramente la finalità industriale a cui questi fondi vanno appunto a permettere di crescere nelle opportunità industriali. Quindi io mi fermo e spero che gli interventi che ho visto che sono di livello assolutamente, e ringrazio anche Luca Svisio per il contributo dell'ordine dei commercialisti, li potrà interessare, l'esperienza che come io l'imposto di dire è stata un'esperienza molto positiva, sia per appunto il costo della raccolta, sia per le caratteristiche dei finanziatori, e sia anche per il risalto che ha avuto la nostra società a seguito di queste operazioni di raccolta di Green Bond. Per cui vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e vi auguro buona, buono seminario. Grazie Giuseppe, prendo la parola a nome dell'ordine dei dottori commercialisti che mi onoro di rappresentare, anche ricordando l'amico Vladimiro Rambaldi che oggi non può essere presente e che è presente del Torno a sinanza. Devo ringraziare sicuramente Giuseppe Bazzesio che prego di togliere l'audio, grazie. Soprattutto anche perché è uno degli ultimi difensori della torinesità di IREN che oggi è anche ben rappresentata nei relatori, però ci teniamo a ricordare che nasce a Torino e che in questo modo va giustamente tutelata e Giuseppe sicuramente ne è uno dei massimi diciamo difensori. Oltre all'ordine dei dottori commercialisti e ai relatori Luca Malfatti e Federico Lozzi, che parlando degli aspetti contabili e ai relatori del gruppo IREN che ci parleranno ovviamente degli strumenti finanziari e dei requisiti di sostenibilità, ricordo anche la presenza importante e fondamentale dell'ordine degli ingegneri rappresentata dal suo presidente Alessio Tomeguzzo, tra l'altro di prossima tornata elettorale, quindi a quale auguriamo il massimo della continuità. È importante ricordare che gli ordini professionali sono sempre stati vicini alla Camera di Commercio e in questo caso Torino Finanza, ma devo dire mi pregio di ricordare che l'unico socio esterno alla Camera di Commercio in Torino Finanza siamo noi commercialisti, quindi devo dire per noi è un grande motivo di merito, ma è importante anche la collaborazione con gli altri ordini professionali, appunto oggi ingegneri in futuro e anche in passato architetti, avvocati, notai, perché solo da questo si può creare i requisiti per migliorare gli aspetti culturali anche delle nostre materie. Alle volte magari possono essere considerate noiose le materie contabili, ma devo dire soprattutto in questo caso sono molto interessanti, anche perché la sostenibilità ancora di più in questi giorni purtroppo nefasti per alcuni elementi, diciamo purtroppo di incertezza che ci ha portato la guerra, rappresentano un elemento di continuità, ma lo rappresentano anche la sostenibilità per i nostri figli che sono particolarmente attenti a questi argomenti e che ci spingono a lavorare sugli stessi. In più, ovviamente il fatto di avere dei green bond o sicuramente anche i bilanci di sostenibilità rappresenta un elemento nuovo sicuramente, i bilanci non vengono solo più considerati quelli in quarta direttiva Cere, ma anche i bilanci sociali e i bilanci SG, sui quali con particolare controllo e attenzione il sistema bancario si muove, riconoscendo in qualche caso proprio una riduzione dei tassi di interesse che sono sicuramente molto importanti e che sono anche percepiti dai nostri clienti in maniera diretta. Per cui devo dire, come dire, spesso le nostre professioni non vengono così toccate in maniera diretta, in questo caso invece lo sono e soprattutto vengono percepite e riconosciute. Quindi su questo spero e sono convinto, così come stiamo facendo come ordine anche in altre attività con l'Unione Industriale su attività appunto analoge, io penso che dovremmo continuare a muoverci e per noi professionisti rappresentano un'occasione di sviluppo, un'occasione di lavoro. Quindi oltre a ringraziare tutti i relatatori e in particolare i miei iscritti, vi auguro ovviamente buon lavoro ringraziando Torino Finanza, Vladimir Lombardi e Vittorio Favetti che portano avanti sempre argomenti molto interessanti e molto, come dire, produttivi. Si spera che anche nei prossimi incontri gli argomenti possano essere così interessanti e portare alla presenza di così tanti, come dire, utenti perché ci diceva prima il dottor Favetti siamo oltre i 170, come dire, collegati. Quindi lascio la parola ad Alessio Tonaguzzo e lo ringrazio, così come ringrazio tutti, del supporto e dell'aiuto. Grazie. Grazie mille, grazie mille Luca. E anche un grazie al Comitato Torino Finanza. Ovviamente porto i saluti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri che rappresento. Tema della sostenibilità. Il tema, questa non è soltanto una parola che viviamo in modo concreto in questi giorni, ma è la parola del futuro. Lo vediamo non soltanto nell'ambito della finanza. Tenete conto anche il proliferare di norme che un tempo non erano neanche tanto utilizzate. Pensate alle certificazioni della sostenibilità degli eventi. C'è una norma, la 2121, ci sono addirittura delle grandi organizzazioni che stanno puntando a questo, a rendere sempre più sostenibili gli eventi. Pensate alla sicurezza. L'altro ieri, il 28 aprile, stavamo parlando di sicurezza nel mondo del lavoro. Quanto è lontano, soprattutto il mondo della piccola e della microimpresa, al concetto di sostenibilità dei costi della sicurezza? Per arrivare appunto ai temi dell'ISG e della finanza sostenibile. Temi ovviamente che gli ordini professionali sono molto cari. Con Luca spesso ci siamo confrontati su quelli che sono gli obiettivi anche dei nostri ordini. Una sostenibilità che deve andare a pari passo con il comportamento sociale. Il nostro obiettivo fondamentale è quello di creare, di avere dei colleghi che siano virtuosi da un punto di vista sociale. Sapete che quando parlate con lo psicologo sociale ci dice che noi abbiamo un comportamento che per il 50% è legato alla nostra indole e per il 50%, l'estante 50% è un comportamento sociale. Cioè fondamentalmente se io vado in giacca e cravatta in mezzo agli hooligans a vedere una partita in Inghilterra probabilmente o mi comporto come loro per sopravvivere, mi adeguo, oppure mi lanciano in mezzo al campo fin quando non mi comporto come loro. Questo è un comportamento non virtuoso. Quello che noi puntiamo invece è il comportamento virtuoso, cioè il comportamento sociale, etico e e questo deve per forza fare andare, ripeto, a braccetto con la sostenibilità. Benvengano quindi eventi come questo. Noi siamo ben contenti di portare anche il nostro contributo e ovviamente di continuare la collaborazione. Ormai ne abbiamo fatti tantissimi eventi, caro Luca, con l'ordine dei commercialisti e con il comitato Torino Finanza. Buona giornata a tutti. Riprendo la parola velocemente solo per dare l'avvio ai lavori che partono con l'intervento della dottoressa Lucia Savini che ci parlerà per lo strumento finanziario di Green Bond. Prego direttamente poi al termine dell'intervento di dare lei stessa la parola alla dottoressa Mancini e poi alla dottoressa Mancini di darli al dottor Malfatti e al dottor Lozzi e quindi ehm niente vi auguro buon lavoro e eh buona come dire partecipazione al webinar. Grazie eh buona buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Ehm può passare magari direttamente alla slide tre. Ecco il mio intervento ehm intende dare un po' uno uno sguardo su quelle che sono le tematiche generali di finanza sostenibile quindi concetti generali le linee guida eh per poi dare uno sguardo al mercato del del in particolare dei Green Bond ma delle delle obbligazioni in senso ampio e l'esperienza poi di IREN appunto su queste tematiche eh partendo dal presupposto che eh la finanza è comunque un concetto diciamo che è ancellare rispetto al business quindi parliamo di finanza sostenibile ma eh è una finanza che supporta un'azienda che è sostenibile quindi diciamo che eh la finanza è finanza to cure e che va riletta in una diciamo in una dimensione diversa proprio alla luce dell'evoluzione delle tematiche che stiamo vivendo quindi partirei brevemente proprio dal concetto di finanza che eh intende fare riferimento a tutti gli strumenti finanziari che sono appunto quelli tradizionali che conosciamo quindi dai loan quindi dai dai finanziamenti ai bond che ehm supportano di fatto un modello di business che è sostenibile a trecentosessanta gradi quindi partiamo da una definizione che è quella un po' più accreditata che eh è una finanza che supporta un investimento sostenibile uno sviluppo sostenibile delle aziende che quindi eh coniuga il il valore diciamo per l'investitore e per la società con obiettivi di medio e lungo termine e che integra l'analisi finanziaria con quella del di tipo ESG quindi con eh valutazione di tipo ambientale valutazione di tipo sociale e di buon governo ehm nella nella nel box a sinistra vediamo un'evoluzione no sempre in questa slide una rapida eh una crescita esponenziale di tutti gli strumenti quindi dicevo bond ma anche loan eh che ha superato dei livelli eh diciamo di oltre eh il un e sei trilioni di euro quindi il trilioni di dollari qui parliamo in dollar mercato mondiale quindi diciamo una componente molto molto estesa eh e questa dinamica però la ritroviamo poi anche nelle singole componenti settoriali ehm se prima dominavano incontrastati un po' le i green bond quindi eh diciamo dei strumenti di debito che sono eh finalizzati al eh finanziamento di investimenti che hanno caratteristiche ambientali eh eh chiaramente misurabili eh oggi si assiste a un'evoluzione delle strutture eh evoluzione delle strutture possiamo partire passare anche alla seconda slide che sostanzialmente si basa su due macro categorie principali ehm eh e che si applicano appunto sia a a tutti gli strumenti di debito le categorie di tipo use of proceed vale a dire eh quelle quelle quegli strumenti che finanziano dei singoli progetti che possono essere progetti che hanno appunto una valenza di tipo green quindi ambientale eh per finanziare quindi progetti con eh chiara chiari chiari impatti ambientali possono essere di tipo social e in questo caso avremmo i cosiddetti social bond perché hanno un riferimento a tematiche diciamo di tipo sociale oppure sustainability eh perché coniugano entrambe le categorie abbiamo poi delle categorie intermedie delle evoluzioni che si sono viste recentemente sul mercato ehm che eh diciamo eh legano eh legano la il finanziamento quindi l'utilizzo dei proventi non tanto al singolo progetto eh una singola tipologia di investimenti ma eh finanziano l'azienda nel suo complesso quindi sostengono il percorso strategico dell'azienda verso la sostenibilità eh le queste etichette che si sono molteplici si va dal dal blue bond al transition bond che supporta aziende che intraprendono un percorso di transizione che magari operano in settori eh diciamo ancora problematici quindi quelli cosiddetti art to abate quindi stanno intraprendendo un percorso verso un processo di decarbonizzazione a eh a i rino bond che vengono emessi dagli enti sovranazionali perché eh proteggono le salvaguardie eh diciamo del del dei parchi nei parchi del Sudafrica ehm a prescindere però appunto da tutte queste etichette eh il la 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 tipologia ricade sempre in questi due grossi macroambiti quindi finanziamento di progetto o di cose ben definite social eh green o miste oppure di tipo general purpose cioè finanziano l'azienda. Passiamo alla slide successiva vediamo che il proliferare di queste diciamo etichette nasce anche da un contesto normativo ehm ehm diciamo non vincolante non obbligatorio quindi è un contesto normativo che ehm diciamo ehm volontario si basa su delle best practice di settore eh utilizzate dagli emittenti e gradite anche dagli investitori per ovviamente avere una una la possibilità di confronto e di standardizzazione dei prodotti ma che si sta incanalando proprio su dei criteri sempre più restrittivi per questo motivo. Le linee guide più accreditate che troviamo nel mercato sono al momento eh linee che sono state emanate da delle associazioni diciamo private di investitori quindi sono organizzazioni non profit la più accreditata sulle tematiche diciamo di finanza sostenibile ehm sono le linee guida i principal emessi dall'ICMA che è l'International eh Capital Market Association che appunto ha emesso i cosiddetti principal eh nella categoria use of proceed che è quello che vediamo appunto nella parte della nella parte alta quindi Green Bond Principle, Social Bond Principle e Sustainability eh Guidelines eh per la parte use of proceed mentre abbiamo le Sustainability Linked Bond Principle eh per la parte di tipo General Portos che rappresentano eh l'ultima evoluzione recente di mercato eh di cui precursore è stata è stata l'Enel che appunto ha eh nel nel duemilaventi ha 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 iniziato l'emissione con questa tipologia che ha un po' rivoluzionato il mercato. Ci sono poi anche delle linee guida diciamo di settore le cosiddette Climate Transition Financial and Book delle linee tematiche proprio per quelle imprese che operano in settori ehm diciamo ancora problematici. Un piccolo accenno perché poi credo che appunto ne parlerà anche eh la dottoressa Mancini e il suo intervento eh la normativa europea su questa tematica eh è molto molto ampia molto ricca e in particolare sulle ehm gli aspetti regolamentari dei Green Bond l'Unione Europea a luglio del duemilaventuno ha proprio emesso un regolamento su uno standard volontario europeo per le obbligazioni ehm eh per le obbligazioni green sarà uno standard appunto volontario quindi al pari delle altre norme ma intende rappresentare un po' il punto di riferimento di tutte le tematiche di finanza eh soprattutto promulgate dalla dall'Unione Europea e sarà piuttosto vincolante nella definizione di quali progetti andranno finanziati perché devono essere progetti che sono perfettamente allineati alle eh categorie della della nuova tassonomia. Eh oggi è ancora in discussione eh in Parlamento europeo e si aspetta diciamo l'applicazione mh probabil forse dal a partire dall'anno prossimo. Partiamo la slide successiva per dare un breve flash sulle sulle dati salienti del mercato. Il mercato è un mercato abbastanza recente eh ha un'evoluzione che esplosa negli ultimi decenni nell'ultimo decennio nasce delle prime emissioni dalle prime emissioni eh di da parte di Banca Europea degli Investimenti e di Banca Mondiale tra il duemilasiete e il duemilotto quindi nasce per ehm iniziativa delle eh delle banche sovranazionali. Ehm le prime obbligazioni eh diciamo in ambito corporate eh si collocano tra il duemilatredici e il duemilaquattordici quando ehm vengono proprio emessi questi i da parte del del dell'ICMA questi principi guida che garantiscono ehm standardizzazione e maggiore trasparenza quindi il mercato richiede effettivamente un'esigenza di eh chiarezza di in termini di disclosure e di caratteristiche di prodotto. Il duemilaquindici rappresenta un po' l'anno di svolta sia con ehm l'agenda duemilatrenta per gli SDG sia con l'agenda di Parigi che l'accordo di Parigi che rappresenta di fatto il primo accordo universale giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici e da qua nasce lo tsunami appunto che si citava prima sugli aspetti regolatori l'Unione Europea ha fatto la parte diciamo da leone e ha eh proprio attribuito alla finanza sostenibile un ruolo eh chiave un ruolo di protagonista perché è un fattore abilitante nella nel nel mobilizzare una gran massa di capitali pubblici e privati a sostegno di tutte le azioni che sono state eh appunto ehm stabilite dal dal action plan dal dal green new deal dal just transition e quindi ovviamente rappresenta una un elemento base per sostenere eh gli investimenti che possono fare fronte alla lotta al cambiamento climatico e anche appunto negli ultimi anni abbiamo visto su eh nonostante la pandemia e nonostante appunto la crisi dell'emergenza bellica. Passiamo alla slide eh le slide successive danno un po' un flash dell'evoluzione del mercato qui ci riferiamo alle società corporate quindi parliamo di soli bond quindi prestiti obbligazionari eh di tipo appunto nelle varie label che abbiamo visto quindi di tipo eh green transition sustainability le varie forme e eh investment grade quindi con un rating ehm diciamo alto e in ambito eh europeo perché è la valuta di riferimento anche più ampia si nota appunto un come abbiamo detto un'esplosione un'esplosione diciamo nei volumi e anche nelle caratteristiche degli strumenti eh la slide successiva riprende vado un po' veloce appunto per perché poi insomma non volete diare troppo su questi su questi aspetti ecco la slide successiva evidenzia eh analogamente questa questa evoluzione anche proprio sulla granularità degli strumenti che eh passano dal diciamo dagli ultimi anni da una componente eh prioritaria sulla tematica green bond ha appunto le tematiche invece di tipo sustainability cioè strumenti che tendono più a focalizzare l'attenzione eh sul percorso di sostenibilità di un'azienda e non su singoli progetti quindi il mercato ha questa evoluzione eh in quanto nasce da eh operatori che sono naturalmente green quindi hanno già nel DNA hanno già caratteristiche eh diciamo eh tipiche appunto per il sostegno di questi investimenti per evolvere poi verso eh comparti e settori sempre più differenziati quindi non più le sole utilici sono le sole società che operano in ambito rinnovabili ma appunto anche operatori che operano nel campo industriale nel campo del food nel campo della moda. La slide successiva appunto riprende un po' questa tematica quindi eh si vede nel nel nei box sopra la diversificazione di settore e eh che che si riflette anche in una presenza geografica più variegata con eh diciamo il 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 comparto europeo che ha un ruolo importantissimo nei volumi e anche l'Italia anche l'Italia ha giocato diciamo un ruolo di 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 rilievo ecco in questa evoluzione eh del del segmento dei bond. Ehm un cenno un breve cenno nella slide successiva anche alla all'evidenza che eh il mercato ha attratto anche emittenti che hanno delle caratteristiche diciamo di eh rischi crediti più elevati quindi o o hanno proprio quindi tematiche eh di tipo high yield eh quindi che possono essere operatori senza rating quindi più rischiosi ma che di fatto rispondono a questa domanda anche da parte degli investitori che eh appunto richiedono allocazione dei loro portafogli secondo tematiche appunto ESG e anche a livello normativo eh saranno chiamati ad effettuare un'allocazione in questi termini in tempi molto rapidi per cui diciamo che si apre anche un comparto di eh emittenti che eh ha avuto un'evoluzione nell'arco di questi ultimi due anni. Eh nel mercato italiano la slide eh che vediamo successiva vede più o meno le dinamiche appunto eh in linea con quanto abbiamo detto il mercato italiano è un mercato che eh è stato dominato anche qui tradizionalmente dalle utilities ma negli ultimi nell'ultimo biennio eh eh diciamo si è aperto a una varietà di emittenti di vari settori. È un mercato che eh ha avuto varie varie innovazioni quindi ha una capacità di innovazione molto importante eh se pensiamo ad esempio appunto a Enel che è stata ehm pioniera proprio nella ehm emissione degli strumenti di tipo LinkedIn che stanno rappresentando lo sviluppo di queste tematiche in ambito obbligazionario. Pensiamo anche a Tim che eh ha ha emesso il primo sustainability italiano quindi il misto social e eh green o Eni Eni che eh ha emesso il primo link mondiale del settore oil and gas eh anche la Repubblica italiana che ha emesso un bond di una rilevanza eh di 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 una taglia molto importante è stato uno dei primi ecco a emettere eh a mettere un bond ehm un BTP green eh in queste quindi in questo formato di volume molto molto rilevante o aeroporti di Roma che è stato il primo emettente mondiale che ha emesso un sustainability linked ehm nel settore aeroportuario. Quindi eh anche diciamo il mercato italiano evidenzia un'evoluzione che proseguirà anche nel duemilaventitré e la componente linked come si vede appunto dal grafico rappresenta un'evoluzione molto importante ed è una probabilmente un'evoluzione naturale per i vari emittenti. Eh diciamo che l'emittente dei green bond eh se andiamo alla slide successivo ehm deve avere necessità di un sottostante di investimenti eh che possono essere investimenti nuovi, investimenti preesistenti che ha dei vincoli eh di un certo tipo. Quindi eh sulla base dei dei principle che abbiamo detto prima il green bond è qualsiasi tipo di strumento obbligazionario i cui proventi sono vincolati esclusivamente per il finanziamento totale o parziale di eh investimenti quindi progetti ambientali capex che possono essere nuovi o preesistenti e che sono allineati con le quattro componenti fondamentali indicate sotto. Quindi utilizzo dei proventi. I proventi sono vincolati a progetti. I progetti devono essere selezionati dall'emittente quindi secondo punto selezione dei progetti sulla base di certi criteri, sulla base di certi indicatori che ne evidenzano l'impatto ambientale che deve essere un impatto positivo, misurabile e rendicontabile. L'aspetto del reporting che è l'ultimo punto è un aspetto molto importante perché mh dà proprio la tenuta e il rispetto di queste di tutti di tutti questi principi. La gestione dei proventi eh diciamo è un altro elemento di rilievo perché i flussi di liquidità e le somme incassate dal bond devono essere tenute disponibile fino a completa a completa allocazione e l'emittente ne deve dare evidenza eh in modo molto molto evidente anche eh nell'ambito dei propri processi di gestione di cash management e fino a completa allocazione. Quindi diciamo che ci sono dei vincoli abbastanza importanti ecco su la gestione di un green bond. Ehm elemento fondamentale diciamo un po' il manifesto di tutta le di tutta le missioni e di tutti gli strumenti direi di finanza sostenibile in generale è il cosiddetto framework. Il framework è eh una sorta di carta di identità del dell'azienda perché ehm evidenzia quelle che sono eh le strategie, il suo impegno nella sostenibilità e quindi rappresenta veramente una sorta di manifesto eh nei confronti del mercato ed impegno a mh a seguire appunto certi 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 percorsi. È un documento pubblico che viene eh redatto in via volontaria a favore appunto degli investitori ed è aggiuntivo rispetto alla documentazione che normalmente viene richiesta per delle missioni obbligazionarie ma ormai sta diventando un elemento veramente di di rilievo perché rappresenta proprio eh eh la la dichiarazione degli impegni in ambito di sostenibilità. Andiamo alla slide successiva ehm per dare sempre tenuta appunto a tutta la struttura eh eh diciamo di tipo documentale e strutturale eh viene richiesta eh sia nella fase diciamo di preemissione quindi prima dell'emissione ma anche nella fase successiva e con periodicità annuale eh una mh una attività di di revisione esterna che può essere svolta eh secondo varie varie tipologie. Ci può essere la cosiddetta second party opinion che è quella che viene normalmente utilizzata dalla maggior parte degli emittenti tramite delle agenzie indipendenti e che eh certifica il rispetto appunto dei principal e il il rispetto appunto di tutti i criteri operativi che vanno dalla selezione dei progetti alla rilevazione dei KPI e alla gestione della liquidità. Oppure ci sono delle certificazioni rispetto a delle tassonomie create appunto da soggetti terzi. Qui ci 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 riferiamo ad esempio a quella più 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 accreditata sul mercato che è il il climate bond standard appunto certificato da 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 questa associazione anche questa un'associazione non profit privata che dà una specie di diciamo bollino eh sulla base della tassonomia appunto che sono che sono pubblicate nei vari nei vari siti siti di riferimento. Ci può essere anche una verifica da parte di soggetti terzi per la gestione dei processi aziendali ad esempio il tema del vincolo della liquidità e da ultimo anche la la l'aggiunta di di indicatori di rating di tipo SG che sono però diciamo del più che rating possiamo chiamarli degli score SG quindi dei punteggi che ehm evidenziano le caratteristiche dell'emittente e dell'emissione sulla base dei criteri appunto SG e sull'impatto che questi possono possono avere. È un rating che è separato dal rating creditizio e quindi diciamo che eh riguarda semplicemente la tematica SG. Ehm l'aspetto fondamentale diciamo del 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 green bond rispetto a un a un bond tradizionale come abbiamo detto rileva proprio nell'utilizzo dei proventi. Di fatto il green bond ehm è uno strumento che ha lo stesso merito di credito eh le stesse caratteristiche ecco non differisce in linea teorica da uno strumento di tipo convenzionale se non proprio per il vincolo eh del del sottostante. Eh questo ha determinato appunto eh nel tempo alcuni alcune caratteristiche sul mercato quindi quali sono i vantaggi nell'emissione di questo di questo strumento. Come abbiamo detto anche nella fase introduttiva è ovviamente un un ampliamento della platea di di investitori a cui un emittente ricorre. Quindi ehm c'è essenzialmente un un impatto e un beneficio in termini di immagine un impatto reputazionale. Si allarga la platea degli investitori perché si attraggono appunto categorie di eh investitori ormai specializzati e che hanno anche dei vincoli di allocazione appunto in appositi ehm secondo anche le le la recente normativa eh prevista dalla 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 dall'Europa. Eh si tratta di investitori che sono investitori fedeli. Eh normalmente sono si parla di si tratta di di fondi pensioni, di fondi assicurativi che quindi acquistano queste questi strumenti ehm perché credono nel percorso di sostenibilità di un'azienda e tipicamente li mantengono per tutta la durata. Quindi ehm eh tendono in sostanza a eh garantire una minore volatilità del rendimento dei di questi strumenti rispetto ai bond tradizionali. È quel eh diciamo è quel vantaggio che eh è un po' oggetto di di analisi di studio recente nell'ambito appunto del mercato cioè eh questo questo premio diciamo green che viene appunto definito greenium che è un po' al centro del del dibattito insomma sul tema del mercato obbligazionario. Di fatto non esistono nei vari studi delle motivazioni teoriche per attribuire a un a un a un bond green questo questo valore aggiuntivo ehm una delle motivazioni per cui in certi momenti appunto si è evidenziato un maggior rendimento del di questi strumenti è legato proprio all'eccesso di domanda che eh diciamo ha ha appunto creato questi questi fenomeni di di diciamo di differenziale di rendimento. Ehm rispetto un po' all'evoluzione del mercato attuale diciamo anche che i recenti eventi eh bellici sembrano dare ancora maggiore resilienza di queste diciamo della tenuta dei rendimenti di questi bond quindi eh ci si aspetta anche per gli anni a venire una tenuta importante degli strumenti. Passerei poi al la slide eh quattordici ad evidenza un po' del ehm possiamo passare alla slide successiva. Vi sentite? Però forse l'organizzata ecco qua la slide successiva per evidenziare un po' il percorso di IREN. Ecco IREN eh ad oggi ha emesso quattro green bond eh il primo nel 2017 e ha raggiunto un totale di due billion eh a valere sul programma EMTM del gruppo e eh la sua composizione finanziaria in termini di debito oggi vede una presenza a pari al 64 per cento di tutti gli strumenti di tipo green e assimilati. Tra gli strumenti assimilati consideriamo i finanziamenti Bay che eh appunto eh hanno vari punti di contatto rispetto alle tematiche del green bond. Bay è la banca europea del clima diciamo nelle sue landing policy sta proprio integrando e e già prima integrava fin da eh fin appunto dall'inizio vari criteri che possiamo ritrovare anche attualmente nella nella finanza diciamo di tipo green eh tradizionale. Il gruppo ha fatto eh diciamo un percorso molto importante che appunto ha eh eh ha 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 permesso di beneficiare appunto di tutte quelle caratteristiche che abbiamo detto quindi di rafforzare la base degli investitori, di avere più visibilità, di avere accesso a degli strumenti che hanno delle caratteristiche appunto innovative perché ultimamente eh oltre alle tematiche diciamo di tipo use of proceed attraverso la pubblicazione del nuovo framework IREN si sta orientando proprio sugli strumenti di tipo LinkedIn. Nella pagina successiva infatti possiamo evidenziare come il nuovo eh il nuovo framework di fatto combina entrambe le componenti come eh sulla base anche della recente prassi di mercato quella un po' più utilizzata quindi eh unisce la componente di tipo green financing che è quella use of proceed che ha le caratteristiche di cui parlavamo prima con un aggiornamento delle categorie di sostenibilità rispetto ai nuovi requisiti previsti dalla tassonomia eh alla nuova componente di tipo sustainability linked cioè appunto la eh componente di tipo general purpose che di fatto eh individua eh degli indicatori di medio lungo termine che saranno monitorati e eh verificati a delle scadenze intermedie e che di fatto rappresentano un po' il percorso di IREN verso la sostenibilità e rappresentano un po' un cambiamento di quello che è il business as usual dell'azienda perché evidenzano di fatto proprio questa sfida nei confronti appunto del del di una scelta che è appunto rivolta a una tematica di di piano industriale molto sostenibile. La slide successiva poi adesso magari lascio la parola Giulia che entra un po' più nel dettaglio di queste caratteristiche da un po' una sintesi quindi delle tipologie di progetti per la per la per la parte relativa agli use of proceed la la parte di sinistra della slide nella parte destra vediamo la componente linked che evidenzia proprio il percorso che si connette e si collega al piano industriale con individuazione di un percorso storico e obiettivi di medio e lungo termine con dei target al duemila ventiquattro duemila sei un obiettivo finale al duemila trenta un collegamento agli SDGs quindi diciamo tutte le tematiche che il la best practice di mercato richiede su 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 questo manifesto che è un po' eh diciamo la le le linee guida su cui si orienteranno tutti gli strumenti finanziari dell'azienda eh da adesso in poi la slide successiva vabbè un un breve un breve fresh su quello che è la la reportistica cioè la 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 certificazione quindi l'attestazione da parte del del di un provider esterno della tenuta di tutti questi indicatori e da ultimo eh evidenzio la 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 presenza di IREN nella nella slide diciotto eh all'interno di un gruppo di aziende europee che si è creato a inizio del duemila diciannove con sedici aziende IREN assieme ad altre aziende ehm italiane quindi A2A e SNAM è entrata a far parte del gruppo nel duemila diciannove e oggi ci sono vinticinque società europee coinvolte in settori diversi questo evidenzia anche proprio la 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 necessità di un di una relazione interaziendale e interfunzionale su queste tematiche proprio a sostegno degli obiettivi del piano lascerei la parola a Giulia un po' che dovrebbe riprendere il percorso sulle tematiche di piano grazie a tutti e se ci sono domande poi sono a disposizione intanto vi condivido lo schermo ok dovreste vedere la presentazione buongiorno a tutti ehm allora io appunto sono Giulia Mancini eh sono di Torino e sono ehm responsabile della struttura CSR quindi Corporate Social Responsibility pianificazione e reporting ehm e ehm oggi mi è stato chiesto di raccontarvi quelli che sono i requisiti di sostenibilità di un'azienda per emettere strumenti di finanza sostenibile ehm sostanzialmente eh la mia presentazione mh vuole farvi trasmettere vuole trasmettervi un concetto fondamentale che è il tema dell'integrazione quindi ehm cercherò di di passare molto velocemente su quelle che sono un po' le caratteristiche di sostenibilità del nostro gruppo che sono ehm il fatto di avere una governance integrata eh con i sui temi della sostenibilità la pianificazione strategica integrata ehm un sistema di monitoraggio periodico eh anch'esso integrato poi faremo un breve passaggio su su quelli che come ha introdotto la mia collega Lucia su ehm i quali sono le categorie di di progetti ehm che sottostanno ai nostri green bond eh e poi un breve focus se ci stiamo con i tempi sulla tassonomia che è stata precedentemente citata. Ehm quindi partiamo molto rapidamente su un attimo l'inquadramento del tema delle tematiche ISG. Ehm allora sostanzialmente si passa da quello che è una un tradizionale concetto di sostenibilità di impresa orientato alla pura sostenibilità economica di un'azienda a la sostenibilità vista su tre pilastri che sono la E che sta per environment quindi ambiente social e governance. Questi tre aspetti ehm sono quindi ISG è l'acronimo di questi tre aspetti e sono le dimensioni fondamentali per misurare la sostenibilità di un'azienda nel breve e nel lungo periodo. Ehm nei boxini che che vedete sulla destra ho inserito una serie di esempi di indicatori per misurare la sostenibilità nei tre nelle tre caratteristiche. Ehm quindi facciamo degli esempi ad esempio nell'ambito ambientale ovviamente il tema delle emissioni clima alteranti, il tema dei consumi energetici, dell'utilizzo dell'acqua, dell'energia. In ambito sociale i più disparati quindi grande importanza al monitoraggio della della catena di fornitura, la sicurezza dei dipendenti, alla loro formazione, rispetto ai diritti umani e nell'ambito di governance invece si ci si riferisce prevalentemente al concetto di oltre a composizione e indipendenza del CDA ma anche alla remunerazione del management collegata a obiettivi di sostenibilità, a ehm l'integrazione dei comitati strategici e dei comitati di gestione con i temi ISG e poi c'è anche tutto il tema della dell'etica eh dell'anticorruzione. Qui vi faccio vi illustro ehm quello che è un po' il nostro nostro organigramma per cui sulla sinistra vedete eh che intanto eh nei tre comitati endoconsiliari quindi i cui componenti sono membri del CDA oltre al comitato remunerazione nomine e al comitato operazioni parti correlate eh una caratteristica è che il nostro comitato controllo rischi è integrato ed è il comitato controllo rischi e sostenibilità. Ehm aggiungo che ehm ho riportato anche le strutture sottostanti ai tre vertici quindi presidente AD e vicepresidente per evidenziare che la struttura corporate social responsibility comitati territoriali eh quindi quella che si occupa la nostra che si occupa di degli impatti ambientali sociali d'azienda è direttamente riportante al vicepresidente ed è sorella quindi lavora in costante affiancamento alla struttura di risk management perché infatti lo vedremo poi dopo perché ho riportato un punto proprio sul tema dell'integrazione anche sul ri sulla valutazione dei rischi tutto il tema della valutazione degli impatti ambientali e sociali non può prescindere dalla valutazione e dall'analisi dei rischi. Eh sulla destra nel box in giallo vedete invece quelle che sono le strutture manageriali per la sostenibilità quindi eh sono state create in particolare mi riferisco alle alle prime due eh due strutture il comitato integrazione strategica ehm ISG eh che è composto da tutti gli organi che vedete elencati quindi da tutti i direttori strategici e eh altri direttori eh di primo livello eh e poi in particolare visto il tema del giorno il comitato finanza sostenibile per cui ehm che è stato che è composto da da struttura CSR finanze, investore, elencino, pianificazione e controllo. Come dicevamo prima quindi come mi anticipava già Lucia ehm un aspetto fondamentale è proprio la nostra pianificazione strategica ehm guardiamolo sotto due punti di vista fondamentale perché ehm in ottica generale un'azienda che voglia essere realmente sostenibile dal punto di vista ambientale sociale nel lungo periodo non può mh prescindere da un piano industriale integrato e con una con una valutazione integrata dei fattori ISG. Ehm secondo punto che che poi cercherò di ricollegare un po' alla fine per fare un po' un tradunione tra tutti questi aspetti ehm la valutazione dei progetti eh e dei KPI che sottostanno ai Green Bond o comunque agli strumenti di finanza sostenibile devono essere proiettati in un in una in uno spazio temporale anche eh futuro sulla base della durata dell'emissione di questi strumenti. Quindi ovviamente per poter calcolare tutti questi KPI che sotto che stanno dietro questi progetti finanziati dagli strumenti di finanza sostenibile deve esserci una valutazione di medio e lungo periodo. Ehm quindi tornando al primo aspetto il piano industriale di IRAN che diciamo integra dal 2017 target di tipo ISG ha subito negli ultimi cioè recentemente direi negli ultimi due anni una grande svolta nel senso che prima ehm il tema dei target ISG veniva un po' a valle rispetto alla pianificazione economica finanziaria quindi ehm venivamo chiamati in causa per calcolare gli impatti di investimenti che già erano stati inseriti nel piano. Ehm il nuovo piano industriale nello specifico adesso fare il focus su questo sull'ultimo piano 21-30 ha ribaltato un po' questa visione quindi eh sulla base di una serie di target che ci siamo dati e che volevamo darci in ottica ISG abbiamo stabilito abbiamo orientato le scelte strategiche. Ehm quindi qui intanto dopo un paio di input i nostri pilastri strategici che trovate nel piano industriale vedono la transizione ecologica come primo pilastro eh e poi territorialità e qualità che all'interno delle quali ci sono tutti gli aspetti legati più alla S quindi ai temi social. Ehm sulla destra vedete il tema degli investimenti più sostenibili che noi già valutiamo in ottica di eh anche in ottica di tassonomia comunque quindi all'interno del piano vengono riportate tutta una serie di informazioni che riguardano il contributo del del piano industriale al agli SDGs e eh agli aspetti di sostenibilità. Qui velocissimamente per portarvi un esempio di quello che ho detto prima ehm queste sono alcuni dei KPI legati eh agli ai target di decarbonizzazione del gruppo eh per cui per esempio quello che vedete sulla destra ovvero la riduzione dell'intensità carbonica ossia del rapporto tra eh emissioni prodotte dal gruppo e la produzione energetica ehm è stato fissato eh in ottica di ottenere la validazione che poi abbiamo ottenuto nel mese di marzo da parte dell'ente terzo dell'ente internazionale Science Based Target Initiative che ehm valida gli obiettivi delle aziende che sono allineati ai livelli di ambizione previsti dall'accordo di Parigi. Ehm quindi in questo senso l'esempio che vi fornisco è che eh in questo caso noi volevamo raggiungere un obiettivo di tipo Science Based Target e quindi abbiamo fissato una serie di azioni e investimenti nel piano industriale per raggiungere quel livello di mh intensità carbonica al 2030. Tutto questo si ricollega al tema del reporting quindi mh ok fissiamo degli obiettivi nel nel piano di breve di medio periodo ma questi obiettivi per andare in porto devono essere monitorati monitorati ehm intanto periodicamente quindi alcuni specifici KPI vengono monitorati anche nella nelle nelle rendicontazioni trimestrali e poi naturalmente c'è il bilancio di sostenibilità o dichiarazione di carattere non finanziario mh che riporta il consuntivo annuale di tutti i KPI ISG fissati nel piano industriale. Chiave importantissima questi obiettivi di sostenibilità sono collegati a all'incentivazione del management eh quindi gli incentivi monetari del di direttori di vario livello non solo i direttori strategici sono collegati a questi obiettivi di sostenibilità. Quindi anche qua mi ricollego a mi ricollego a quello che diceva Lucia eh tutti i KPI che sottostanno ai progetti finanziati vengono calcolati sul breve o lungo periodo a seconda di quella che è l'emissione la durata dell'emissione dello strumento eh e poi vengono rendi contati periodicamente all'interno del bilancio di sostenibilità e presentati eh all'agenzia che fa il certifico quindi alla seconda parte che dà l'opinion su sugli strumenti ehm in tutta la loro completezza. Ehm qui eh mi ricollego a quello che vi accennavo prima al tema dell'integrazione del risk management e quindi mh per ciascuna categoria quella che vedete è proprio la mappa eh di tutti i rischi valutati interni e esterni per il gruppo IREN. Ehm per ciascuna categoria di rischio prevista all'interno della risk map vengono valutati gli aspetti di governance environmental and social e lo vedete con con insomma la i i simbolini che abbiamo inserito ehm fanno vedere quei rischi eh su quale delle dei delle tre eh dei tre pilastri quindi ISG eh impattano o possono essere impattati. eh un altro tema molto importante di cui ora non ho spazio per per raccontarvi però è il tema della valutazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici ehm che sta avendo ovviamente un'importanza sempre maggiore per cui da due anni a questa parte eh il gruppo si è dotato di una climate risk policy e sta facendo una valutazione molto puntuale ehm di come i rischi da cambiamento climatico quindi acuti eh cronici quindi rischi fisici acuti e cronici e quelli di transizione possono impattare sulle infrastrutture sugli asset di gruppo mh e eh e abbiamo creato proprio dei modelli che servono in fase di pianificazione strategica per valutare l'impatto economico finanziario di questi rischi. Passiamo al tema clu di oggi quindi al tema dei green bond eh qui vi riporto quelli che sono ehm le macro categorie ehm di eh elegibili cosiddette categorie elegibili eh in cui ehm che stanno sotto i quattro green bond che abbiamo emesso e che sono l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili, la depurazione delle acque reflue, l'efficientamento del ciclo dei rifiuti riciclo, i mobility ed efficientamento dei servizi idrici. Quindi sostanzialmente i nostri mh i progetti che sono stati finanziati afferiscono a queste categorie e per ciascuna di queste eh eligible green category ehm sono identificati mh dei set di indicatori che vanno a a quantificare l'impatto eh ambientale positivo di quello specifico progetto. Abbiamo riportato qui eh un esempio di di quello che che è un una scheda progetto ehm per cui ad esempio qui era un impianto fotovoltaico per cui vengono inseriti una serie di informazioni ehm economico finanziarie, una serie di informazioni tecniche come relative a in questo caso all'impianto e poi sotto vedete i QPI ehm che che abbiamo rendi contato a partire dal dal in questo caso dal 2013 fino al 22 eh che era dall'inizio quando avvio il finanziamento, cioè il periodo di copertura dell'emissione sostanzialmente. Ehm noi eh il processo eh di valutazione di questo eh dei dei progetti che sottostanno i green bond ehm parte da appunto una valutazione tecnica ehm la valutazione dei criteri contabili e di pianificazione e poi c'è appunto la valutazione degli aspetti di di sostenibilità. ehm i criteri di ammissibilità ehm associati a questi a questi progetti possono essere ad esempio vi ho riportato sulla sinistra l'aumento della produzione da fonti non fossili eh l'incremento dell'efficienza energetica, miglioramento di impianti di di vario genere, l'aumento della raccolta differenziata e via dicendo. ehm i progetti che vengono inclusi all'interno del del portafoglio dei progetti dell'attività ammissibili vengono come vi dicevo prima monitorati periodicamente ehm e ehm e verificati ehm da un ente esterno che eh verifica la tenuta appunto di questa ehm dell'emissione. quindi ehm facendo una breve sintesi di questa prima parte ehm sostanzialmente quello che mi mi premeva trasmettere come come informazione è che naturalmente i requisiti di una di sostenibilità di un'azienda sono intanto operare e gestire in servizi e business cosa che non abbiamo detto che abbiamo dato per scontato che abbiano ehm una delle caratteristiche intrinseca di sostenibilità quindi eh business in cui ci sia un potenziale impatto eh sull'ambiente e eh che siano gestiti con attenzione alla salvaguardia e alla sostenibilità ambientale. ehm che siano ci sia una pianificazione di lungo termine e un monitoraggio periodico eh e strutturato di questi obiettivi. Eh questo perché è necessario naturalmente operare in questi business per poter individuare progetti da finanziare o rifinanziare, calcolare i KPISG in una vista prospettica e monitorarli annualmente per verificare di aver ottenuto risultati sui diversi progetti. Poi prima di passare la parola ai prossimi relatori eh mi premeva fare un piccolo excursus ma veloce perché comunque è un tema complesso eh che potrebbe aprire un dialogo di una sessione solo su questo tema eh però ehm mi sembrava importante eh eh non trascurare che cos'è la tassonomia europea visto che ormai quando si parla di sostenibilità e più nello specifico di finanza sostenibile non si può prescindere da questo tema e quindi vi racconto brevemente che cos'è il regolamento duemilaventi otto cinque due dell'Unione Europea che sostanzialmente ha definito un dei criteri specifici per dire quali attività sono sostenibili possono essere definite sostenibili quindi non possiamo più dire inventarci dei criteri per dire che siamo sostenibili o che svolgiamo attività sostenibili ma la tassonomia dice quali attività sono realmente ehm un'attività è allineata alla tassonomia se rispetta e contribuisce ad almeno uno dei sei obiettivi che vi ho riportato in questi box verdi ehm e non deve arrecare danno quindi nel contribuire ad almeno uno di questi sei obiettivi non deve arrecare danno agli altri cinque e in più deve essere conforme alle garanzie minime stabilite dalla ehm dalle OECD guidelines ehm fondamentalmente quindi andando al sodo che cosa vuol dire per un'azienda rendicontare le informazioni relative alla tassonomia vuol dire all'interno del bilancio di sostenibilità che attenzione è una dichiarazione di carattere non finanziario andare a inserire ricavi spese e eh spese operative e investimenti relativi alle attività allineate alla tassonomia europea quindi richiede ovviamente un effort molto significativo da parte delle aziende noi come ci siamo mossi a partire già dal duemilaventuno abbiamo creato un team di lavoro interfunzionale che ehm ha analizzato tutte le attività economiche elencate all'interno della tassonomia sta valutando a una a una tutti i criteri tecnici eh specificati all'interno delle normative e ehm sta implementando un sistema all'interno del sistema di codifica dei conti del gruppo una serie di ehm attributi per eh definire i vari centri di costo, i vari investimenti come allineati o meno ai diversi obiettivi della tassonomia. ehm quindi questo magari può aprire poi delle domande nel nella sezione di di Q&A non vado avanti perché altrimenti occupo troppo tempo ehm quindi per il momento mi mi taccio sono a disposizione anch'io per per domande successivamente e passo la parola al dottor Malfatti e al dottor Lotti e vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera buonasera a tutti ehm beh eh riprendo riprendo velocemente qualcosa che è già stato detto dalle precedenti eh relatrici eh nel senso che eh sicuramente il tema dei green bonds si colloca eh se vogliamo nel tema più ampio che è quello dei rischi ISG. Eh in tema di rischi eh proprio questo pomeriggio assieme al collega Lozzi abbiamo eh come dire tenuto un un webinar dedicato alla gestione dei rischi o meglio l'applicazione di metodi quantitativi per la gestione dei rischi nelle PMI e è evidente che mh nell'ambito delle piccole e medie imprese eh questo tema eh assume una rilevanza eh decisamente crescente. Ehm nell'ambito in modo particolare dei rischi eh ISG eh è evidente che eh lato lato imprese e quindi eh coinvolge il tema direttamente il il commercialista eh dicevo lato imprese eh rilevano al momento in modo particolare i rischi di tipo ambientale e anche quelli eh inerenti la governance quelli di tipo ambientale lo sappiamo rischi fisici quindi gli eventi di natura catastrofale tutti gli eventi legati ai cambiamenti climatici eh piuttosto che i rischi di di transizione. Eh pensiamo eh banalmente alla 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 carenza no di precipitazioni che eh sta mettendo in ginocchio eh un settore che è quello eh agroalimentare ehm pensiamo appunto ad eventi eh di carattere catastrofale che possono poi portare con sé delle perdite anche di tipo operativo eh pensiamo anche eh ai rischi di eh di transizione. Eh un esempio che eh che forse ripetiamo eh che che ripetiamo di frequente eh è quello proprio della dell'impresa che eh opera nel mondo dell'automotive e produce componenti per motori termici. È evidente che il rischio di transizione per questo tipo di impresa è un rischio particolarmente rilevante nel momento in cui l'industria dell'automotive sta andando verso fonti alternative di eh di alimentazione. Eh oppure pensiamo a quelle imprese che eh producono eh bottigliette di plastica. È evidente che sono tutti questi temi che hanno un impatto come dire immediato, un impatto diretto no? Su quello che è il proprio il proprio modello di business e questo per dire che eh lato lato commercialisti lo sforzo a mio avviso che va fatto è quello per il quale è eh necessario far percepire alla piccola media impresa che ehm tutta una serie di adempimenti anche nella forma della disclosure e dell'informativa eh non è eh andare a soddisfare un una un un adempimento di carattere eh normativo non è andare a soddisfare esclusivamente una richiesta di carattere normativo ma affrontare e gestire i rischi ISG eh è qualcosa di ben è qualcosa di ben di ben diverso. Eh ho fatto l'esempio eh dei rischi legati all'ambiente, rischi fisici, rischi di transizione ma lo stesso tema evidentemente vale anche per ciò che riguarda la governance e quindi l'insieme no? Delle regole, l'insieme delle procedure ehm l'insieme delle 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 procedure appunto che eh disciplinano no? La vita di una di un'impresa, di un organismo particolarmente sì anche complesso e articolato qual è eh qual è l'impresa. quindi sicuramente sono temi ehm che che riguardano sicuramente attuali ma che hanno un impatto veramente eh immediato nei confronti delle delle PMI. Sono diversi eh come dire gli studi o le analisi eh che ci forniscono e ci restituiscono eh un po' quello che è lo stato dell'arte. Eh lo stato dell'arte eh da una parte ci dice che soprattutto nell'ambito delle PMI eh è bassa la percentuale di quelle PMI che hanno vera e piena consapevolezza in generale della gestione quantomeno formalizzata e strutturata dei rischi e in modo particolare eh dei rischi di tipo di tipo ISG. Eh e quindi è necessario eh evidentemente lavorare in quella direzione no? Lavorare e andare nella direzione di una gestione organica strutturata e formalizzata dei dei rischi che non può più essere lasciata come dire all'intuizione o alla sensibilità dell'imprenditore e del e del commercialista che lo assiste. Eh d'altro canto eh indagini diverse indagini di 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 mercato ci dicono anche eh che le imprese eh più virtuose quindi quelle che eh gestiscono in maniera più strutturata i rischi di qualunque genere presentano tendenzialmente rispetto a quelle che non lo fanno degli indici eh di di eh reddittività eh in qualche misura in qualche misura migliore. Eh l'altro aspetto eh che a mio avviso rileva no? Dal lato del 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 professionista e dal lato del del di conseguenza dell'imprenditore sempre con riferimento alla gestione dei rischi ecco direi altri due altri due aspetti. Il primo è quello legato al tema dei business plan. Spesso il professionista è chiamato eh magari con una certa urgenza a dare supporto nella predisposizione di un piano di un piano che si sviluppa su un arco temporale di tre o cinque anni ehm e spesso ci dimentichiamo ehm che o non diamo l'adeguata rilevanza al fatto che ogni piano è di fatto associabile ad un determinato profilo di rischio dell'impresa. Tutte le volte in cui andiamo a eh riflettere in un piano in un business plan delle ipotesi che possono essere eh l'ingresso in nuovi mercati eh lo sviluppo di nuovi prodotti eh il processo di internazionalizzazione o quant'altro ecco sono tutti aspetti che andiamo a riflettere in un piano e ognuno di loro va a modificare quello che è il profilo di rischio eh dell'impresa e eh a mio avviso anche qui eh è necessario che eh il la il contributo no del commercialista il contributo del professionista evolva in qualche misura nel senso di dare alla PMI non soltanto un prodotto finito che si chiama business plan fatto di eh prospetti economici patrimoniali e finanziari ma anche in qualche modo una misura no del rischio che è associato a quelle a quel business plan. Questo ha maggior ragione in un contesto come quello attuale che è caratterizzato da una serie di eventi sicuramente eccezionali ma che ci dicono che eh sia scarsa visibilità rispetto al futuro eh e quindi è evidente che anche qui lato business plan sarà sempre più necessario ragionare in termini di scenari fra di loro alternativi quindi è verosimile che bisognerà ragionare in termini di business plan associati quantomeno ad uno scenario best ad uno scenario worst ad uno scenario selected e a ciascuno di questi scenari dobbiamo essere in grado di associare una probabilità di accadimento e definire il profilo di rischio associato a quello scenario. L'altro aspetto che se vogliamo è strettamente legato a questo ed è anche questo inerente alle attività che vedono impegnato il professionista eh è quello relativo ad esempio alla valutazione. Valutazione d'azienda che si basa su dei flussi di cassa eh almeno in alcuni nell'applicazione di alcune metodologie plus di cassa che nascono dalla eh predisposizione di piani eh anche qui è necessario che nel processo valutativo si tenga adeguatamente conto di quello che è il profilo di rischio dell'impresa, dell'evoluzione del suo profilo di rischio riflesso nei piani e si tenga conto evidentemente anche di quelli che sono i rischi eh ISG ai quali l'impresa l'impresa è esposta. Ecco detto questo eh lascio la parola al al collega Federico Lozzi eh perché eh poi è chiaro che ehm a fronte dell'emissione di un green bond eh o in generale comunque a fronte dell'emissione di un titolo di debito c'è sempre come dire il supporto no da parte del 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 professionista. Quindi Federico lasciate la parola. grazie Luca eh sì a noi era stata assegnata in prima battuta una un tema che eh riguardava gli aspetti contabili e fiscali dei green bond e con come dire un atto di supponenza possiamo dire così eh Luca sì abbiamo ritenuto che non fosse di particolare interesse anche perché non è che ci sia molto da dire sugli aspetti contabili e fiscali eh del del green bond è un debito un titolo di debito e come tale quindi è appostato tra i debiti e sotto il profilo fiscale non ha nessun trattamento particolarmente differente rispetto a eh qualsiasi eh obbligazione. abbiamo ritenuto forse più interessante ehm rivolgendosi eh rivolgendosi questo webinar anche alla ai colleghi quindi alla nostra categoria eh sottoporre alcuni elementi di riflessione che in un certo senso eh sono quelli che sono stati sviluppati negli interventi precedenti e quindi anche quello di di Luca Malfatti su alcune tematiche che non sono estranee alla nostra categoria. Mi piace spesso ripetere in queste occasioni dove abbiamo la possibilità di confrontarci eh anche al di fuori con i relatori che sono non sempre espressioni della nostra categoria di dire che noi sostanzialmente rappresentiamo a volte anche un ortocollo un avamposto presso nelle imprese e quindi talvolta eh anche certe operazioni, certe valutazioni eh trovano spazio ad essere applicate eh dopo una opera di persuasione che eh riusciamo a fare presso i nostri assistiti. Eh quindi eh come dire mi piace anche in questo contesto eh sottolineare il ruolo del dottore commercialista in una tematica così importante come quella eh macro degli ESG e tutte le applicazioni che ne derivano e tra queste anche le missioni dei Greenbone. Eh sono competenze che eh ripeto sono eh proprie anche della nostra categoria. Vorrei dire che è lo stesso nostro ordinamento professionale che prevede espressamente tra le varie competenze, ad esempio la redazione, eh l'asseverazione di eh l'asseverazione di informativi ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati. Eh prevede la certificazione degli investimenti ambientali ai fini dell'ottenimento di agevolazioni previste dalle varie normative interne e anche comunitarie. Eh a livello formativo eh l'istituzione di categoria sia a livello nazionale che a livello locale specifico mi piace richiamare apposite commissioni di studio che sono state istituite dall'ordine dei dottori commercialisti di Torino in alcuni ambiti in particolare nell'ambito della disclosure e della valutazione di variabili di sostenibilità sociale e ambientale nella predisposizione della eh reportistica, analisi e elaborazione di principi e di metodologie per la predisposizione di report di sostenibilità e di report non financial, analisi ed elaborazione di principi per lo svolgimento delle attività di asseverazione dei processi di corporate e di reporting in ambito di sostenibilità e degli attivi strumenti di disclosure, approfondimento dei sostenibilità e degli attivi di issue in esercizio dell'attività di controllo e così via. C'è una eh commissione eh che recentemente ha eh predisposto una una sorta di anzi no una sorta un vero e proprio protocollo che rappresenta una best eh practice di comportamento che il collega deve seguire in tutta l'attività di assistenza all'impresa nel verificare l'adeguamento della stessa ai vari standard di sostenibilità che sono richiesti. D'altra parte che questi argomenti siano ehm cruciali eh ormai sulla pelle di tutti quanti. Ancora l'altro giorno avevo avuto occasione nel corso di una riunione presso un eh assistito, un cliente che opera nel settore della della meccanica di precisione e mi diceva chiaramente che un loro cliente, un loro cliente importante, una multinazionale eh dovendo verificare eh la filiera green eh e quindi anche le loro forniture eh aveva imposto a questo assistito dello studio che eh il procedimento di quel del settore in cui opera il cliente è una eh torneria e quindi come dire è un lavoro abbastanza sporco eh all'esito del quale i vari pezzi vengono generalmente lavati, puliti quindi dalle parti residui dell'olio attraverso delle dei solventi chimici ebbene questo grosso cliente è imposto che cambiassero procedimento e che facessero degli investimenti molto importanti nell'acquisizione di lavatrici che attraverso la forza centrifuga consentono di ehm fa staccare dei pezzi torniti le particelle di olio e quindi nel eh evitare l'utilizzo di questi solventi chimici. Ecco in questo caso questa questa società, questo cliente ha dovuto fare un investimento molto importante ma necessario perché altrimenti sarebbe uscito dalla eh linea del eh dei fornitori di questa azienda multinazionale. Eh dicevo quindi che queste competenze eh sono competenze che hanno anche i dottori commercialisti e che spendono ormai sempre di più su questi temi che sono di estrema attualità e quindi anche per quanto riguarda la prodisposizione della struttura e della valutazione dei ehm delle obbligazioni verdi o green board e occupano in tutto questo un ruolo determinante in eh questa questo processo di transizione ormai già in corso che nel breve termine si sia ci si auspica nel breve termine dovrebbe portare da un modello economico produttivo che nel passato ha palizzato tutti i suoi limiti a un modello economico produttivo più adeguato al alle esigenze dell'ambiente, a tutte le tematiche sociali e così via. Ecco voglio ancora fare un'osservazione che non mi sembra tutto banale. Questi temi sono di estremo interesse. C'è un punto fondamentale su cui noi ci scontriamo e in cui noi commercialisti dobbiamo un po' vederci come dei profeti tra virgolette se non voglio essere eccessivo perché perché questi temi siano imposti da una legislazione molto sta diventando sempre più chiara e cogente rispetto agli adempimenti che devono essere assunti e fuori dubbio che c'è un tema di asimmetrie informative e di diseducazione a livello imprenditoriale importante nel senso che a volte ci si trova a parlare in contesti in cui si ha l'impressione che non ci sia una grossa capacità o quantomeno disponibilità ad accogliere e a dare attuazione a queste tematiche. Sappiamo che l'imprenditore è molto spesso molto orientato al suo business in una prospettiva di medio o di breve periodo e quindi generalmente il tema fondamentale per l'imprenditore che talvolta ci appare più come un eccellente commerciale piuttosto che un imprenditore è quello di avere una grossa attenzione sulla variabile dei ricavi e delle marginalità, cosa ovviamente giustissima perché altrimenti l'azienda non sta in piedi. Però ad esempio c'è una disattenzione o talvolta una scarsa sensibilità a comprendere che il tema della reddittività e anche quindi quella dei ricavi e della reddittività è un tema che potrebbe esaurirsi abbastanza velocemente se non si adottano dei sistemi che a lungo andare potrebbero essere determinanti per mantenere i propri obiettivi di fatturato e di profitto. Penso ad esempio a un caso che avevamo visto, proprio un caso di studio all'interno delle nostre commissioni, di un'azienda molto importante che si occupa della macellazione del commercio delle carni, c'è adesso il tema di estrema attualità, cioè quello della, che probabilmente a breve sarà normato, cioè quello di indicare nelle etichette dei prodotti l'impatto ambientale che determina la produzione di quel prodotto. Ebbene, ci si chiede quale sarà l'effetto sui consumi quando uno andrà a comprare un prodotto, appunto non so, la carne, il prosciutto eccetera e si vedrà che per produrre un chilo di quel prodotto si è generato non so quanti chili di anidride carbonica. Questo quasi sicuramente avrà un impatto nei consumi e quindi se certe aziende non saranno capaci di adeguare il loro modello di business a queste tematiche non potranno sicuramente dire di adottare un modello di business che assicura alla azienda una continuità aziendale nel medio-lungo periodo. In tutto questo ritengo che la categoria si intricea, nel senso che deve svolgere un ruolo educativo e di trasferimento di questi concetti all'imprenditore che sono fondamentali per la sopravvivenza dell'azienda e quindi del tessuto economico nazionale. Sarà un compito non facile ma insomma ponendoci come, ripeto, avamposto nel rapporto con l'azienda e ovviamente dotati di adeguate competenze, non ho dubbio che saremo in grado di svolgere questo compito naturalmente a favore e a vantaggio di tutti. Il mio intervento finisce qui, ripasso la parola a chi segue nel programma delle relazioni. Sì, buonasera a tutti, sono Vittorio Favetti. Direi che il seminario si conclude qui, l'ultimo intervento era il suo, quindi precisi come gli orologi svizzeri, avevamo dichiarato che sarebbe finito alle 19, sono le 19.02, quindi puntualissimi ringrazio i relatori per la loro interessantissima interventi. Segnalo due cose che sono già online, le slide che sono state presentate questa sera sul sito della Camera di Commercio di Torino, nella pagina dedicata all'evento, il link lo trovate ancora in home page. Segnalo anche che il seminario è stato registrato e che quindi verrà pubblicato sul canale YouTube della Camera di Commercio il tempo di scaricarlo, di montarlo nei prossimi giorni. La notizia della pubblicazione verrà data sul gruppo LinkedIn del Comitato Torino Finanza. Se siete interessati a seguire le nostre cose potete iscrivervi e ricevete per primi la comunicazione dei nuovi seminari, dei nuovi eventi. Non so se il Presidente Toneguzzo vuole dare l'ultimo saluto a tutti e per chiudere l'evento questa sera. Assolutamente. Mi approfitto appunto per ringraziare tutti i relatori e per l'elevato contenuto degli interventi. veramente grazie. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie.